finalmente ci si torna a incontrare di persona venerdì 22 aprile ti aspetto a rimini per un evento fisico che conclude il percorso ufinance 2022 l'evento dedicato al trading al mondo degli investimenti creato da traderlink e da quotidiano nazionale qn quindi il resto del carlino io sarò relatore sarò relatore in due seminari il primo seminario si svolgerà al mattino illustrerò una strategia di trading che al tempo stesso semplice da replicare ma al tempo stesso è anche profittevole svilupperò la strategia passo dopo passo e analizzerò quelli che sono le performance e i risultati come ad esempio l'equity line e tutte le altre metriche il secondo seminario si svolgerà al pomeriggio e parlerò di etf parlano di quelle che sono le migliori strategie per investire con gli etf e quindi entrando nel dettaglio parlerò di piani di accumulo parlerò di strategie statiche i portafogli pigri lesi portafoglio ma anche di strategie attive e dinamiche cioè quelle che prevedono di gestire le posizioni in modo attivo quindi comprando e vendendo a seconda di quelle che sono le mutate condizioni di mercato mi raccomando ti aspetto a rimini venerdì 22 aprile e sarà un piacere conoscerti di persona a